no what ma che cavolo eccoci tornare su scam nuovo wipe nuovo inizio praticamente il server in cui giocavamo ha fatto il wipe diciamo dopo svariati mesi quindi vediamo un attimino cosa si riesce a combina a parte che mi ha spawnato proprio da vantasi facendo il senso una parte è buono perchè così posso lutta qualcosa e poi magari spostarmi non lo so preferirei andare su a neve però a sto punto c'è una fortuna di stare vicino alla safe vorrei lutta un attimino con la città là davanti e poi magari vediamo dovendo qualcosina tra l'altro per quanto riguarda le abilità ora appena atterriamo lo faccio vedere tra l'altro ci ha resettato tutto sia i punti fama sia il bilancio dell'account quindi partiamo proprio da zero ora ci facciamo un attimino giusto una lancia di legno anche perchè voglio rivellare la skill colpa a corpo piuttosto che l'arco e niente poi ci spostiamo un lato avanti ci abbiamo un po' di sfortuna che sta diventando otto però vabbè tra l'altro sono stati fatti anche dei cambiamenti a server praticamente il loot da base non è più 2,5 ma è 1,5 per quanto riguarda invece le aree ad alto loot queste qui ad esempio col cerchio rosso che comunque ce ne sono diverse in mappa il loot non è più per 5 ma è per 3 quindi da una parte meglio così e niente raga a parte questo sfortunatamente è notte ma vediamo cosa riusciamo a combinare insomma spero che a sta città qua vicino ci sia comunque modo di trovare qualcosino ecco ora come ora la cosa fondamentale più che altro è riuscire a trovare un zenetto perché altrimenti non possiamo trasportare veramente nulla e guarda quasi quasi portiamola non si sa mai questo in realtà ci dà anche un po' di calorie no? quindi potrebbe torna utile questo qui non penso abbia più slot in realtà si quindi a questo punto posso fare qualcosa del genere what? um ok particolare indubbiamente non ci credo ragazze in etto pazzisco è mezzo scassato ok però possiamo vedete sistemarlo o comunque cioè comunque è abbastanza slot nel senso meglio di prima sicuramente quindi va bene così se riuscissimo a trovare anche un po' di cibo in realtà l'ideale ora come ora sarebbe trovare i farmaci così poi ce ne andiamo in safe e possiamo anche vendere qualcosina cosa che qua non c'è un cavolo ma vabbè anche lo sparro non è pazzesco ora si abbiamo un bel po' di slot nel senso tocca far attenzione perché comunque vabbè che se troviamo a qualcuno dubito si è messo diciamo benissimo però meglio far attenzione comunque qua che c'è una maglietta e guarda no troppi slot lascia sta altre scarpe ma direi che ho un paio di scorta basta e avanzano in realtà possiamo anche scendere non ci credo non ci sono arrivato dall'altro lato macchina come caspita fa qualcuno ad avere la macchina dopo 5 minuti dal wipe è assurdo tipo che cavolo che roba c'è una mela grazie mille a volte qualcosina d'utile si trova altre scarpe no grazie il formaggio però ce lo piglia potrei provare da un'occhiata qua dentro ma dubito di trovare qualcosa d'utile questo in realtà è utile troviamo anche l'altro pezzo per fare praticamente il kit da cucito fantastico almeno così possiamo riparare lo zaino no a terra non c'è niente andiamo su sono dei guanti che in realtà non ce l'abbiamo quindi va bene così cappellino no ma tengo questo non si sa mai che ci dà un po' più de stoff what no grazie però lo porto che magari ci facciamo l'arco poi spero di trovare anche qualche zombie che vorrei livella la skill corpo a corpo però gioco per favore niente urde perché ho il corpo a corpo senza skill quindi con la lancia diventa un po' problematico certo che trova anche una giacchetta non sarebbe male però tipo questa qui ok meglio di niente allora questa qui mi sa che è meglio infatti caspito ah possiamo avere tutte e due meglio ancora questi qui invece vediamo un attimino quanti slot ci hanno forse sono un po' meglio dei nostri quindi facciamo così equipaggio beh volendo ora ci potremmo anche fa l'arco no però vorrei dare un'altra occhiata qua davanti l'altro servirebbe qualcosa ad andare vendere in safe spero che ci sia una farmacia o comunque qualcosa del genere questa città in realtà non è che ci sono venuto più da tanto anzi diciamo che sono più a zona innevata che questa qui niente fermiamoci un attimino qui aspettiamo il restart allora il server appena restartato vediamo un attimino se magari c'è una farmacia da ste parti se troviamo una moto ancora meglio ma diciamo che ho dei dubbi faccia pure attenzione non so sa mai che c'è qualche zombie l'altro la gamma no già al massimo caspita spero che si vede qualcosa poi andandolo ai titano cioè nel senso spero non si veda troppo poco ci sono un sacco di edifici ma purtroppo per quanto riguarda caspita quanto cibo e guarda mangia un attimino visto che c'è a sto punto perché no ma poi per quanto riguarda le abilità ci ho messo le solite rifle advanced metal running e metal endurance vabbè advanced stealth e poi ci ho messo lo sniping advanced almeno così quelli diciamo un pochettino più tragiche da livellare ce le abbiamo già livellate ecco anche se devo dire che è tutto un po' troppo tranquillo e questo mi preoccupa un pochettino guarda bevi pure qua davanti no è un supermercato ma so queste casse questa si può vendere purtroppo purtroppo non c'è una farmacia perché in realtà tipo in sefi i farmaci diciamo che non sono male 200 300 a pezzo se fanno questa ma la porto non è vero non posso le patatine vabbè guarda butta questa porta di patatine questa si può portare a milan anche non c'è altro vabbè potrei provare ad andare in safe ma dubito fortemente di poter fare abbastanza moneta anzi non riusciamo a fare quasi un cavolo c'ha l'arco questo no what ma che cavolo ma sta soppiati con me ok va bene scusa nel senso probabilmente erano un team ma non fa niente da una parte quasi meglio così perché sono la neve diciamo diciamo è un pochettino meglio pure sto villaggio qui non sarebbe male però tra l'altro pure lì al castello non ci sono mai andato potrei anche provare a fungire o no allora sinceramente qui non ci sono mai venuto spero che ci sia qualcosa di utile perché altrimenti caspita che purtroppo poi c'è il paesello qua davanti ma onestamente vorrei andare comunque verso sta zona qui no anche perché così è pure più facile diciamo trova loot e andarlo a vento perché praticamente qua c'è il bunker tipo quindi poi si può andare direttamente in safe no questo magari me lo piglio però purtroppo però non c'ho corda cavolo altrimenti facevamo sembra di sentire il post altrimenti facevamo la lancia quella migliore no quella in metallo ok ok c'è un fuoristrada ma questo è tipo l'elmo ma ok cavolo gli mancano pure poche ruote in realtà c'ho pure la batteria eh diciamo non sarebbe proprio male però vedo qua sopra se c'è qualcosa ad utile sento passi però qualcosa mi dice che questo start sarà più complicato del previsto però mi sembrava che era sopra quindi meglio scendi giù sa che ci spawn non le spado però se ne riuscissi a trovare una forse ma potrei anche più o meno difendere più o meno grande così no non ci credo raga siamo vivi no raga siamo vivi no raga siamo vivi non ci credo no raga non ci credo what ok non ci credo c'è veramente allora non panicare non so sarà meglio questo o meglio quella ma vorrei togliermi dalle scatole ma raga non ci credo c3 caspita c3 me ne manca uno vorrei andare via sinceramente faceva un botto di roba questo andrei tipo a vendere tutto il possibile tipo la doppietta tutte ste spade che ci abbiamo no e poi in realtà visto che abbiamo l'arma corpo a corpo non andrei direttamente al bunker sempre se riusciamo ad arrivare in sé ovviamente però cavolo è andata abbastanza bene allora vi auguro questo questi ce li pigliamo non è vero perché non è vero abbiamo qualcosa che pesa troppo purtroppo la borraccia pesa un casino dovrei muovere però mettete questo delmo che cavolo queste me le porto quasi quasi le scarpe già la faccio no così sì perché purtroppo è un sacco di strada però grande così c'è nel senso appadate raga cioè folle veramente folle andiamo via tra l'altro c'aveva anche le frecce da ferro questo qui assurdo skill corpo a corpo caspito 5% ok allora vediamo un attimo che ci abbiamo da vende i colpi del fucile a pompa la pistola non lo so non so se mi conviene di tenere la pistola e il fucile a pompa quanto va la spada scusami questo è un valoncavolo quelle del castello invece valgono un botto 1.3 ok grazie comunque la pistola non conviene che me la tengono almeno se troviamo qualcuno ci possiamo dipendere devo solo controllare col caricatore come stiamo messi allora vediamo un po' e quello c'è una sparata diversa di colpi infatti allora questo è il tuo toy questo quasi metto qui c'è cammo please ok un po' due colpi ci sono questi ci facciamo un load e niente questo caricatore si può vendere questi qui sono antidolorifici quindi ma si potrebbero anche vendere in realtà ma scusa l'elmo ma sta al general guzzo non penso questo qui se lo comprano un attimo no diciamo che comunque qualcosina ci siamo fatta niente di incredibile però insomma mica male allora compri di questi per favore e in realtà non ho altro da venderti per questi qui che in realtà mi conviene potrebbero servire dentro al bunker però mi serve anche avere qualcosina in caso tocca respona tra l'altro ci abbiamo anche qualcosa per fare rugs quindi meglio ancora allora scusami un attimo facciamo che tu ti compri questo 300 insomma qualcosa in più mapo devi dare però in realtà in realtà basta poi praticamente questa maglietta qui ci facciamo i rugs che comunque ci servono stessa cosa col cappellino e col pantalone io tutto nell'inventario poi ci faccio diciamo il battle no altrimenti poi è un po' un problema l'altro occupano un sacco di spazio proprio con la spada le sta tagliare ok no perché ci avevamo il coltellino scusa cioè allora facciamo praticamente questo qui così diciamo ci occupa meno spazio no in realtà ci abbiamo quasi 4000 cibo e acqua quindi stiamo messi anche relativamente bene allora questo si lascia qui questo ce lo fa mettere qua fantastico e qua invece purtroppo non ci va tocca fa così questo ce lo lascia lo lasciamo non ci interessa e niente tocca mettere un attimino le poste monete in banca e poi possiamo andare al bunker non so effettivamente quanto può aver senso perché probabilmente c'è gente però perché no vale la pena provare ok ok che 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 diciamo che 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 queste